Buona giornata a tutti quanti, rieccoci qui in trasmissione con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo come avete sentito e riprendiamo la trasmissione da dove avevamo lasciato precedentemente. La seconda parte della trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo parte con la lettura del Sentiero d'Oro. Oggi, prima però di partire con la trasmissione, andremo a dire un'altra cosetta. Vi ricordo che il giorno 26 giugno, venerdì 26 giugno, alle ore 20.30, qui in sala radio a Cadoneghe, teremo una conferenza espositiva di trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stragoneria. In pratica, cosa che facciamo? Esponiamo i concetti della trascendenza e dell'immanenza nel paganesimo politeista. Cosa noi intendiamo per trascendenza e immanenza? Naturalmente seguirà il dibattito. E allora, questo naturalmente è condizionato alle disponibilità della cooperativa. Sicuramente non ci sono problemi, però se il locale dovesse servire per cosa della cooperativa, chiaramente serve la cooperativa. In ogni caso, l'appuntamento è per venerdì 26 giugno, alle ore 20.30, in sala radio, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, che è una laterale sinistra della strada del Santo, che da Castelfranco porta a Padova, subito dopo la pizzeria Antico Guerriero. E niente, la conferenza si svolgerà come tutte le conferenze che teniamo noi. Ci sarà una breve introduzione fatta da me e da Francesco, in cui esporremo i concetti della trascendenza e dell'immanenza. Naturalmente sapete benissimo che io e Francesco siamo un po' diversi come persone, per cui i nostri concetti, anche se sono uguali, ci esprimono in maniera diversa perché abbiamo dei percorsi diversi. Naturalmente diremo le nostre cose, dopodiché apriremo il dibattito per chi vuole intervenire. Io inviterei le persone che vogliono intervenire in conferenze per dibattere di vedersi loro, il loro concetto di immanenza e trascendenza, così magari anche di confrontarlo col nostro. Vi ricordo sempre che le nostre conferenze non sono tanto per fare o tanto per giocare, cioè per noi le cose sono estremamente importanti e praticamente chi viene in conferenza sa perfettamente, le nostre conferenze sa perfettamente che sono delle sfide, cioè noi mettiamo in piazza quello che noi siamo, cioè quello che noi abbiamo dentro, per cui è chiaro che quello che noi abbiamo dentro lo riteniamo prezioso e importante, non è che lo facciamo tanto per fare o tanto per passare una serata, per cui i nostri comunque saranno degli scontri. Chiunque viene, naturalmente noi facciamo la conferenza, noi presentiamo le nostre cose, noi dibattiamo le cose che abbiamo noi e confrontiamo le cose che abbiamo noi con tutti quelli che vogliono venire a sentirci o a vedere, per cui noi prendiamo le nostre cose, il nostro sentire, il nostro percepire, le nostre concezioni e le mettiamo a disposizione delle persone. Questo venerdì 26 giugno 1998 alle ore 20.30, 26 giugno ore 20.30 a Sala Radio, via Belzoni 9, Cadoneghe, questo sempre condizionato dalle possibilità che ha la cooperativa di fare questo. Detto questo, cominciamo con la trasmissione di questa sera, la trasmissione di questa sera che è Il Sentiero d'Oro, parte della lettura del libro Il Sentiero d'Oro. Che cos'è Il Sentiero d'Oro? Il Sentiero d'Oro, per chi ancora non lo sapesse, è la lettura delle immagini della religione romana viste da me, cioè praticamente io nel mio percorso di stragoneria sono andato a cercarmi cosa era più vicino a quello che io avevo percepito. E nella mia ricerca ho trovato appunto le immagini della religione romana che ho vissuto attraverso le alterazioni della percezione e quello che io sono andato a percepire, quello che io sono andato a vedere, che io sono andato a sentire, l'ho scritto nel libro Il Sentiero d'Oro. Naturalmente dal momento che ogni sentire pagano è diverso da un altro sentire pagano, chiunque può aggiungere qualcosa, ma sicuramente nessuno può contrastare quello che dico, nel senso che quello che dico io è reale perché io l'ho percepito, io l'ho trasformato, io l'ho trasferito. Naturalmente è reale ma può essere insufficiente, può essere anche una stupidaggine, può essere anche una superficialità, può essere che si possa fare un miliardo di cose migliori delle mie. Indubbiamente si può farlo, però questo è quello che io ho fatto e là è dove io sono arrivato. Detto questo, ricordo invece per quelli che partecipano, quelli che vengono a mangiare la pizza messimente, questa volta abbiamo cambiato pizzeria, siamo a pizzeria che ha indicato Giorgio l'ultima volta, comunque mi metterò in contatto, sia per il giorno, per il sabato 13 o per il sabato 20, insomma vediamo quando è possibile farlo, è indifferente tutto sommato. Bene, la prima immagine che andiamo a leggere oggi è Giunone. Giunone, ricordo sempre che nel paganesimo non è tanto importante la statua o quello che si racconta di, è il dio di Giunone, è il dio di, ma è importante invece la coscienza, cioè ciò che la coscienza trasmette nella relazione di quello che l'individuo ha tirato fuori, cioè è il percorso di magia che fa l'individuo, che costruisce il dio che ha dentro l'individuo, che incontra il divino che è fuori di lui e insieme marciano nel continuo dei mutamenti. Per cui ciò che è importante non è il dio come nei cristiani, ma è importante il divino che si incontra e incontrando quel divino si cammina assieme, non c'è assoggettamento nel paganesimo. Questo ricordatevo sempre, sempre, sempre. Giunone è il passaggio dall'uno all'altro mondo, Giunone è la morte del feto e la nascita dell'essere della natura. Giunone di più, è l'essere che cresce per giungere alla vita, ad ogni nuova vita, un essere sempre giovane, in quanto è eterno attraverso le trasformazioni. Un feto vecchio viene abortito, a meno che non riesca a nascere un bambino o una bambina. Un bambino e una bambina diventano vecchi ed immaturi, se non si trasformano in uomini e donne. Un uomo e una donna diventano vecchi e cessano di essere, qualora non sviluppino il loro corpo luminoso trasformandosi in esseri di energia. Giunone è l'energia che si sprigiona nel passaggio dall'uno all'altro stato dell'esistenza degli esseri della natura. Una concentrazione di energia cosciente che ha bisogno di riprodurre se stessa, rinnovandosi ed arricchendosi attraverso continui passaggi di stato e di sviluppo degli esseri della natura. Continui e senza nodi, senza intasamenti di energia vitale stagnata, la quale impedisce la trasformazione dell'essere, bloccandolo nello stato attuale. Giunone è la fine dell'esistenza riferito alla specie in sé, è la coscienza dalla quale le specie attingono energia per le proprie trasformazioni. Non è ella i cicli della luna? Non sono forse i cicli lunari, morte e rinascite della luna stessa? Non sono forse i cicli lunari, cadenzati come il ciclo mestuale? Giunone è una coscienza particolare, ricorda gli esseri lo scopo della propria esistenza e le guida per mano arricchendosi di energia vitale mentre ne cede per aiutare i percorsi dei singoli esseri. Ogni trasformazione è Giunone, ogni passaggio da un mondo ad un altro dell'esistenza è Giunone. Giunone è pronta ad accogliere il bimbo che viene alla luce, alla morte del feto. Giunone porge il braccio alla ragazza e alla ragazza quando diventano uomini e donne. Giunone è pronta ad accogliere l'essere luminoso che nasce alla morte dello stragone. Giunone cede energia per permettere agli esseri e agli esseri umani in particolare di cogliere l'opportunità della propria esistenza perché dalla capacità di cogliere le opportunità dipende il destino di Giunone. Non è solo energia derivata dalla trasformazione ma qualità di energia riferita al tipo, al livello e alla consapevolezza della trasformazione. Giunone la cui energia è relazionata soltanto con quella di feti trasformati in bimbi è una Giunone povera e debole. Rispetto ad una Giunone la cui energia è quella di streghe e stragoni trasformatosi in esseri luminosi. La forza della germinazione, la forza della nascita attraverso la quale gli esseri della natura producono e rinnovano la propria coscienza e consapevolezza nascendo e rinascendo è Giunone. Ogni nascita dà e riceve da Giunone. È come se Giunone cedesse energia vitale propria ad ogni nuova nascita dicendo prendi la mia energia, ti prego usa la unita la tua volontà per diventare eterno il tuo diventare eterno è la mia ricchezza, la mia potenza. Quando l'essere abortisce se stesso la sua energia torna in circolo Giunone la riprende pronta a cederla ad altri esseri ad altre possibilità. Giunone è la sposa di Giove può essere diversamente? Giunone è la forza della nascita dei viventi all'interno della natura Giove è la prima coperta vivente del pianeta Giove è l'oggettività dell'esistenza della natura Giunone è la forza perpetuatrice dei viventi all'interno della natura questi sono esseri e forze fondamentali concorrenti all'esistenza della natura la loro unione genera esseri capaci di proiettarsi nell'eternità la loro unione esiste in funzione di generare esseri capaci di proiettarsi nell'eternità altre forze concorrono al processo certamente ma queste rappresentano i mattoni fondamentali del nostro esistente come Giunone genera i viventi nella natura così Giunone genera Marte la contraddizione come Giunone genera i viventi della natura così Giunone genera la primavera e con essa dà il via al ciclo dell'anno l'anno poi iniziale dal ciclo solare lunare o dal ciclo della natura relativo al luogo dove si trova è soggettivo ma il ciclo della natura è un ciclo che ha inizio da Giunone e dopo Giunone un altro dei divini che è fondamentale nel mio percorso di stragoneria ed è forse la prima divinità romana che io ho incontrato che io ho visto e con la quale ho fuso il mio fare e questa divinità è Giano fondato nel passato radicato nel presente proiettato nel futuro questo essere Giano è quanto simboleggiato da questa triade la trasformazione in relazione al passaggio del tempo e al susseguirsi dei mutamenti Giano è il personaggio che non si ferma non ha tempo per riflettere in quanto costantemente proiettato nell'attimo seguente è l'attimo seguente che rivela Giano le opzioni del suo fare nel presente e degli sceglie agendo grazie agli strumenti che si è dato nei momenti passati non è il passato che costruisce e determina il fare nel momento presente ma è bensì il futuro ad indicare e determinare il fare nel momento presente mentre il passato si limita a fornire i mezzi per l'azione la stessa azione nel presente ha come scopo espandere l'individuo fornendo i mezzi attraverso i quali meglio poter scegliere fra le opzioni presentate Giano dunque vive il futuro il futuro e i cambiamenti che verranno dopo essersi costruito attraverso le scelte nei momenti passati per il fatto di vivere il futuro o i futuri possibili Giano può scegliere in base alla propria volontà quale di quei futuri rendere presente Giano non si volta mai indietro per guardare cosa ha perso e dove ha sbagliato il suo sguardo rivolto al passato indica la sequenza dei mutamenti da cui proviene il suo sguardo rivolto al futuro indica la direzione nella quale è proiettato il suo fare nel quotidiano indica la qualità del suo cammino Giano è un essere slegato dalla costruzione del tempo se a lui necessita può concentrare l'attenzione nel tempo che fugge come può concentrarla nel tempo che gli viene incontro l'unica cosa che non può fare è omettere il fare nel tempo presente passato e futuro sono soltanto delle astrazioni il primo è dentro la nostra pelle nel secondo possibile proiettiamo la nostra percezione l'uno e l'altro hanno ragione di essere soltanto nel presente nel passato si perdono gli esseri umani sconfitti quando ricordano il buon tempo antico nei futuri possibili si perdono i sognatori nutriti di illusioni solo l'essere Giano è radicato nel presente usando passato e futuro per costruire il proprio divenire solo l'essere Giano con la forza di carna agisce nel presente mettendo passato e futuro al proprio servizio Giano è una grande forza una linea di tensione viva che attraversa l'intera specie umana e dalla quale la specie umana attinge energia vitale Giano è l'essere umano che tentando di superare i limiti della sua fisicità dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza un essere umano conscio di come e quanto il suo fare incida sui mutamenti futuri è conscio del sentiero che lo ha portato ad essere ciò che è il fare nel presente il fare nel presente del singolo essere umano si mescola e si compone col fare dell'insieme degli esseri umani che attraverso questo fare costruiscono il futuro non è il fare di chi è costretto ad agire in base a scelte non sue ma costrette da imposizioni alle quali non è in grado di opporsi ma è il fare dell'essere umano che giorno dopo giorno ha costruito se stesso ampliando il ventaglio delle opzioni all'interno delle quali potrà scegliere è l'essere umano che non si limita a subire l'oggettività ma in questa vi riversa la propria volontà in funzione della costruzione del proprio futuro un essere umano capace di estendere le ali della percezione risalendo i futuri possibili in base alle sue scelte e che ha costruito attraverso mille sfide superate nel passato Giano è la personificazione del fare attraverso il quale un essere umano si trasforma in un essere luminoso al di là del sistema sociale o della situazione in cui opera l'energia costituente Giano è l'energia di chi agisce per costruire il futuro la forma di Giano e la sua trasformazione attraverso i mutamenti la sua funzione e l'azione nel quotidiano finalizzata alla costruzione del futuro quando i Sabini scalarono il Campidoglio e stavano per conquistare Roma Giano fece scaturire una fontana d'acqua calda facendoli fuggire quale futuro sarebbe stato costruito qualora i Sabini avessero distrutto Roma fra due possibili futuri quel Giano scelse un futuro ed agì in quel presente al fine di costruire questo futuro i Romani lasciavano la porta aperta del Tempio di Giano affinché i costui potessi intervenire quando essi erano in guerra per aiutarli aiutarli in cosa? a vincere? no aiutarli a costruire il futuro quando le condizioni nell'oggettività la guerra a punto metteva nell'incertezza lo sviluppo del futuro ci penseranno uomini vuoti a distruggere il futuro Seneca non avrebbe mai osato scrivere un poeta burlesco con Giano protagonista di una difesa dell'imperatore Claudio trasformato in zucca se le tensioni del futuro non si fossero attenuate come fine del fare degli esseri umani di quel tempo quando ci agisce per conservare il presente quando ci si rifugia nei ricordi del passato inizia lo sviluppo dell'energia vitale di Giano e quel popolo diventa preda di tutte quelle forze che erano in agguato per distruggerlo riflettendo una tendenza del proprio tempo Seneca snobba Giano riducendolo alla stregua di un buffone di corte col quale divertirsi e così facendo snobba ed avvilisce la tensione degli esseri umani proiettata nel futuro ma chi te lo fa fare di pensare al futuro di lavorare di impegnarti pensa al momento presente sei uno stupido ad agire in funzione del domani arraffa finché puoi vi ricordate il Gesù di Nazare che dice gli apostoli ma chi ve lo fa fare di raccogliere il pane per il futuro ma chi ve lo fa fare di lavorare per vestirvi pensate che mio padre veste i gigli del campo voi siete i gigli meglio dei gigli del campo ma chi ve lo fa fare io moltiplico i panni e i pesci ricordatevi bene questa cosa quando il fare non è funzionale a costruire il futuro è funzionale a distruggere il presente e può distruggere il presente soltanto ancorando l'attenzione degli esseri umani al passato si potrebbe dire anche se ciò è riduttivo Roma fu grande fin tanto che le porte di Giano si aprivano e con esse il cuore degli esseri umani Roma cessò di essere grande quando il cuore degli esseri umani si chiuse al futuro permettendo ai cristiani e a chi per loro preparava il terreno di seminare miseria ancorando l'attenzione degli esseri umani al passato negando loro ogni futuro se non quello di asservimento nella miseria l'attenzione concentrata sul futuro non è una tensione bloccata in quanto il futuro in sé non esiste se non come proiezione del percepito del presente e del divenuto dal passato ogni variabile modifica quel futuro ogni azione dunque l'attenzione non può essere prigioniera del futuro ma libera di spaziare nei futuri possibili permettendo al soggetto opzioni nel presente al fine di giungere al futuro migliore percepito dal soggetto stesso scusate un attimo solo che è una cassetta che è perfetta in questo sta la grandezza di Giano in questo consiste l'età dell'oro fin tanto che gli esseri umani hanno l'attenzione nel futuro possono agire soltanto per migliorare il presente in funzione del miglior futuro concepibile quando gli esseri umani vengono costretti a concentrare la loro attenzione nel presente sono costretti ad arraffare appropriarsi di quanto esiste in quanto questa è la loro unica possibilità di sopravvivenza costoro senza futuro vogliono toglierlo anche ad altri esseri umani ecco ora non ho più futuro ma tu dammi la tua vita io ti faccio ciò che voglio dopo se me la darai senza resistere Dio che mi ha delegato come tuo padrone ti consentirà di accedere al paradiso dove gli schiavi potranno vivere in ozio senza lavorare questo è il motto dei cristiani dopo che per essi molti già lavoravano leggi Cesare Augusto e compagni per strappare il futuro dagli occhi degli esseri umani quando non c'è più tensione verso il futuro c'è saccheggio del presente nostalgia del passato per saccheggiare il presente è necessario distruggere la tensione verso il futuro accecare gli occhi che lo vedono e far piangere i cuori di nostalgia del passato per distruggere il presente è necessario uccidere Giano per ridurre i propri miseri e sottometterli è necessario uccidere Giano aprire le porte del tempio affinché Giano soccorra gli esseri mentre costoro affrontano le contraddizioni dell'esistente per poter costruire un futuro è importante ma aprire i cuori nella speranza del divenire è diventare Giano che scutendosi le catene afferra il futuro nelle proprie mani e questa è la seconda figura di oggi ed è Giano una delle figure che a me sono più care e dopo aver parlato di Giunone l'essenza della vita e della nascita dopo aver parlato Giano che è l'essenza dello scorrere del tempo e di come agire per costruire il futuro parleremo di un'altra figura del Paganesimo Romano e quest'altra figura è Fons Ricordatevi sempre che io uso sia termini romani che termini italiani indipendentemente e indifferentemente a secondo delle scelte del momento non è importante il nome che uso è importante il senso della figura è importante ciò che io ritengo sia la figura Fons è l'essere che genera la fonte il pianeta Terra è un essere compatto ma da una spaccata cattura esce acqua e produce contraddizione quel produrre la contraddizione è Fons la fonte è un nodo attorno alla quale ruota la vita degli esseri non solo come beveratoio ma soprattutto come elemento della vita degli esseri stessi Fons è l'essere capace di generare contraddizioni Fons è l'essere che scuote dal torpore Fons è lo scuotitore del mondo circostante dal punto di vista politico sociale Fons è l'agitatore non colui che si limita a criticare la situazione esistente ma colui che fa della ribellione alla situazione esistente l'essenza del proprio operare e ancora non una ribellione per appropriarsi dell'esistente ma come l'acqua faticosemente si apre un varco nelle viscere della terra per poi fluire più o meno copiosa da una fonte così l'agitatore sociale si fa strada nelle contraddizioni dell'esistente per poi fluire libero da ogni condizionamento che il sistema sociale in cui è nato vissuto e cresciuto è immesso in lui al fine di farlo funzionare per i suoi scopi a quella fonte molti si abbeverano a volte diventano fonti e si stessi a volte per tentare di inaridirla c'è chi vuole una fonte c'è e chi vuole una fonte rispondente ai suoi bisogni senza chiedersi quali questi siano senza chiedersi se essi stessi possano essere fons la fonte è fons sgorgogliante allegro e felice leggero felice di essere riuscito nel proprio intento ad aprirsi un varco nelle viscere della terra fons è la fonte dell'essere felice mentre distende se stesso dopo essersi costruito un varco nelle costrizioni del quotidiano fons è lo stregone mentre guarda il mondo circostante dopo la lunga lotta per la costruzione del proprio doppio di energia ma fons è anche il corpo morto sul quale pasteggiano gli esseri avvoltoi un corpo distrutto a cui non resta che metta a disposizione quel che di lui resta al fine di permettere ad altri esseri di continuare il loro cammino lungo la via del sé sviluppando la propria coscienza di sé fons è l'essere sconfitto che disperde la propria energia vitale nel vento mettendo a disposizione di chi ne potrà fare un uso migliore fons è la fonte un centro di energia vitale che provvede a distribuire condizioni all'interno delle quali permettere agli esseri di svilupparsi non c'è una relazione immediata fra l'essere umano e fons l'essere umano diventa comunque fons nei vari momenti della sua esistenza quando esercita la propria volontà diventa comunque fons anche nella sconfitta distribuendo al vento la propria energia vitale rimasta e ai vermi il proprio corpo e questa è la terza immagine di oggi la quarta immagine che sarebbe da leggere è Diana ma Diana l'ho già detto almeno due o tre volte qui in radio per cui oggi ve la salto Diana non la leggerò però voglio concludere le immagini di oggi con una quarta immagine anche questa che per me è molto preziosa ed è l'immagine di Minerva Minerva è il sapere della ragione non l'astratto sapere di Aristotele e il suo disprezzo per coloro che risolvono i problemi dell'esistente attraverso il lavoro ma la conoscenza e il sapere legato alla costanza nell'esecuzione del proprio lavoro Minerva è il lavoro trasformazione della materia in prodotti atti a soddisfare i bisogni umani come fonte di conoscenza Minerva è tratta a Roma da prigioniera catturata ai faleri gli si legano le mani il padrone giunto al controllo del lavoro dei suoi schiavi deve impedire loro di progredire lungo la via del sapere e della conoscenza deve bloccarli o distruggerli le catene con le quali li lega devono essere tanto più robuste quanto maggiore è il loro bisogno di sapere la loro forza e determinazione Diana tiene accesa la scintilla di libertà Minerva è il suo nutrimento il disprezzo di Aristotele per il sapere era feroce dopo aver rubato il sapere dalle mani di chi lo aveva costruito mediante il lavoro volse contro costoro tutto il suo disprezzo in quanto solo egli e coloro e quelli della sua casta si ritenevano degni del sapere e della conoscenza e non era sufficientemente umile per sospendere il giudizio presupponendo quanto sapere era negato alla sua persona lui quel sapere l'aveva rubato alle mani che l'avevano reso possibile mediante il loro lavoro non importa se oggi il comando sociale chiama quelle mani operaio contadino artigiano tecnico scienziato eccetera sono categorie soggettive del comando sociale categorie di cui si serve per soggiogare e controllare tali mani dividendole il sapere si conquista mediante il fare delle mani l'intelligenza si limita a registrarlo e memorizzarlo costruendo una banca dati alla quale si può accedere anche senza lavorare attraverso l'educazione e la comunicazione dimenticando chi conquistò e sperimentò tale sapere attraverso il proprio lavoro un sapere acquisito attraverso il furto non è il sapere è un'informazione il sapere per essere tale deve essere raggiunto mediante l'autodisciplina e la costanza del soggetto attraverso il suo sforzo di modificarsi diventando minerva il sapere deve avvolgere l'individuo non diventare uno strumento dell'individuo minerva è il fulcro a cui la ragione si rivolge per attingere energia per alimentare la propria tensione verso il sapere nel tentativo di soddisfarne il bisogno ne sa qualche cosa Tommaso d'Aquino quando esaltava il sapere di Aristotele col quale rivitalizzare il moribondo macellaio di Sodoma e Gomorra portando argomenti al proprio mettere in ginocchio gli esseri umani ne sa qualcosa Paracelso mentre insultava chiamandoli per nome gli inutili libri di medicina al suo tempo affermando che i guaritori e le guaritrici manipolando le erbe ne sapevano ben di più Roma portò minerva dentro le proprie mura in catene ma Roma non era Gerusalemme il sapere era importante e i romani si affrettarono a togliere quelle catene e a dirigere un tempio a minerva il sapere si può conquistare non dominare quanta paura fa il sapere ai cristiani essi dovettero cancellare il ricordo della festa del 19 marzo sostituendola con il loro Giuseppe artigiano e falegname distrusse il sapere per costruire centinaia di anni di oscurantismo e ne sostituirne il ricordo con una caricatura di nulla minerva è una linea di tensione attraverso la quale si impediscono agli esseri umani di inaridire la loro ragione quando la ragione perde le linee di tensione attraverso la quale nutre se stessa non solo inaridisce ma sta già inaridendo l'essere luminoso che cresce dentro l'essere umano più sono stretti i confini del sapere della ragione più è misero l'essere luminoso dentro l'essere umano con quella ragione la fame di sapere della ragione indica come l'essere luminoso dentro l'essere umano stia crescendo e si muova vitale così identifica una ragione senza più fame di sapere la soluzione l'assunzione di morale e dogmi attraverso i quali limitare lo spazio in cui spostare la ragione determina in questa una sensazione di compiutezza e perfezione primo passo per il suo autoannientamento cosa identifica una ragione affamata di sapere e conoscenza la propensione di quell'essere umano a sospendere il giudizio il chiedersi il perché delle cose di essere scettico nel modo di porsi davanti alla realtà presentatasi ai suoi occhi minerva è la misura dell'essere umano nella capacità di estendere le ali della percezione nell'esistente che questa misura non abbia limiti e possa la nostra ragione nuotare in minerva diventando minerva essa stessa la civetta dai grandi occhi lucenti ben rappresenta minerva il suo volo è rapido e silenzioso ma giunge all'obiettivo come il sapere costretto e combattuto giorno dopo giorno giunge all'obiettivo costruisce il corpo luminoso dell'essere umano che lo ricerca vola nella notte dell'ignoranza e della sottomissione squarciando con i suoi occhi e le sue ali le tenebre con gli artigli si aggrappa a quanto ha raggiunto e non lo molla finché non l'ha mangiato così il sapere è tale non quando viene descritto ma quando viene fagocitato da minerva si attinge il sapere ma non come una storia raccontata la sera davanti al fuoco o da attori per televisione ma attraverso il lavoro costante e sistematico delle mani si lamenta o studioso di miti perché minerva non ha leggende e come potrebbe averne non esistono leggende perché il sapere è in sé non è spettacolo di sé il sapere stupisce ma il suo stupore è gioia nel silenzio solo chi ricerca il sapere può comprendere la gioia nel dischiudersi di porte fino a dieri ignote quella gioia va nascosta al comando sociale in quanto essa è il suo terrore quella gioia va nascosta agli ignoranti i quali non comprendendola la definiscono pazzia e questa è la quarta immagine di oggi adesso avete qualche qualche secondo di tempo un attimo prima di riprendere e rieccomi qui le immagini di oggi che abbiamo parlato del sentiero d'oro sono quattro divinità fondamentali nella vita degli esseri umani ricordo che due sono le operazioni di magia fondamentali di cui noi dobbiamo sempre avere consapevolezza e coscienza uno è la nascita del corpo fisico e il secondo è la morte del corpo fisico questi due limiti sono due momenti assoluti di magia dopodiché esiste un altro momento intermedio in cui il bambino si trasforma in fanciullo o fanciulla là abbiamo un altro stravolgimento dell'energia abbiamo un'altra trasformazione abbiamo fenomeni di poltergeist abbiamo tantissimi fenomeni in quel momento abbiamo un rivolgimento completo dell'energia vitale della persona bene ricordiamoci comunque che la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico sono due atti di magia i più grandi atti di magia che esista nella vita delle persone questa è la magia per cui tutto quello che porta a costruire questo tutto ciò che porta a costruire questi due momenti sono sempre degli atti magici sono sempre dei travasi di energia vitale sono sempre dei momenti di trasformazione fondamentale per questo Giunone è una forza dell'universo è una forza dell'universo che attraversa l'essere natura che attraversa tutti gli esseri della natura e alimenta la nascita degli esseri della natura praticamente è come se Giunone desse un pezzo di se stessa ogni volta che un essere della natura nasce in realtà non è che esiste un dio che fa nascere qualcuno ma mette dentro qualcosa di sé cioè alimenta la possibilità di costruire l'altro momento di magia che è la morte del corpo fisico che però è una nascita potenzialmente è la nascita del corpo luminoso per cui Giunone alimenta tutto questo ed è i momenti centrali di questi due momenti della vita degli esseri della natura e degli esseri umani nel nostro caso questa è la magia in associo quando parliamo di magia parliamo di questo non esiste la magia del fermati vento la bacchetta magica di Mosè tutte queste sono tutte cazzate sono tutte imbecillità la magia è il momento della nascita è il momento della morte due momenti preziosi nell'esistenza degli individui due momenti che vanno curati attraverso un'altra operazione di magia cioè la costruzione di se stessi e abbiamo visto per la costruzione di se stessi un momento fondamentale un momento fondamentale che è Minerva Minerva non è altro che il sapere della ragione cioè quel sapere che noi costruiamo attraverso il lavoro delle nostre mani noi con le nostre mani manipoliamo la materia ma mentre noi con le nostre mani manipoliamo la materia la materia manipola noi qualunque azione noi facciamo questa azione ci costruisce questa azione altro non è che la via alchemica di ogni persona cioè ogni persona fa delle azioni per manipolare la materia se una persona fa delle azioni per manipolare la materia perde qualcosa cioè è come se la sua via per costruire il suo corpo luminoso fosse meno matto questo non significa che non costruisce il corpo luminoso se non manipola la materia però perde qualcosa di fondamentale e perde essenzialmente la capacità di costruire il sapere questa persona deve prendere il sapere da altre fonti cioè deve avere delle informazioni e deve riuscire comunque a fagocitare quel sapere il sapere si costruisce soltanto con le mani parlo del sapere della ragione il sapere del pensiero il sapere della vita cioè trasformando la materia in merci e le merci in prodotti che servono a soddisfare i bisogni umani solo questo è il lavoro chiaramente in un sistema sociale il lavoro può diventare fatica se è sottomissione o magia se costruisce il nostro corpo luminoso se costruisce il nostro sapere il controllo operato dalle religioni monoteiste ha fatto in modo che il lavoro sia fatica il lavoro sia distruzione del riposo della persona per cui fu necessario fare tutta una serie di lotte per conquistare il diritto all'ozio ma non l'ozio contro il lavoro ma l'ozio contro il lavoro che trasforma la persona in merce la trasforma in bestiame da fatica il lavoro in realtà è manipolazione della materia e diventa un atto di magia quando quella manipolazione diventa sapere diventa conoscenza diventa interazione fra l'individuo e la materia che manipola poi abbiamo visto un'altra divinità fondamentale abbiamo visto Giano Giano è una divinità che non non ha un referente nella vita ha un referente su come noi puntiamo gli occhi ogni essere umano può essere Giano nella misura in cui agisce nel presente non in funzione del passato non in funzione di progetti fatti nel passato ma in funzione del tempo che gli viene incontro in funzione di costruire un futuro possibile la funzione di costruire un futuro possibile vedremo come Giano altro non è che l'intento cioè quello che io parlo nel Cologio dello Stragone come intento nella regione romana è Giano in pratica quello che io faccio lo faccio nel tentativo di costruire il futuro però il progetto che ha la mia ragione di costruire il futuro non è esattamente quello che farò è la mia ragione che dice boh pensiamo di riuscire a fare questa cosa ma il fatto di pensare di fare questa cosa io non non è detto che faccia quella cosa bisogna vedere le forze che mi spingono per fare però il pensare di fare quella cosa è comunque allineato con l'intento però quando nuovi fenomeni arrivano al mio fare non fanno altro che variare quello che sto facendo per arrivare magari anche ad altri punti ad altre cose bene questa variazione del mio fare che è l'intento non è altro che il farsi Giano cioè anziché progettare un'azione per ottenere dei risultati in base al fatto che io sono così dunque faccio l'elencazione delle cose da l'elencazione delle cose io deduco che anziché fare in questo modo non faccio altro che obbedire a quello che è la forza che mi spinge e costruire il futuro in base a quello che io percepisco il futuro non in base a quello che penso del passato che sono due modi di guardare la vita assolutamente diversa cioè capovolgono completamente la visione del mondo è una cosa veramente forte non è una sciocchezza e abbiamo visto la quarta la quarta divinità invece è Fons Fons è la fonte è il senso di qualunque fonte noi possiamo pensare la fonte della vita la fonte della conoscenza la fonte del sapere la fonte come nascita la fonte proprio come fonte come acqua la fonte che abbeverà il bosco la fonte a cui si abbeveranno gli animali la fonte la fonte dell'universo da dove si comprimono le stelle nascono i pianeti Fons è la fonte e chiunque di noi si fa fonte diventa automaticamente Fons fonde la propria energia con Fons per cui ricordiamoci sempre nel paganesimo questo concetto io sviluppo il Dio che ho dentro per trovare il Dio che c'è fuori di me vediamo un attimo pronto? buonasera sono Libardi sì per favore so che non c'è il momento ma per chiedere è stato un numero di Claudio che non hai la informazione dell'Ussino? no non te lo posso dare per telefono dovevi telefonare l'altra parte in cooperativa mi hai dato il numero? 700 777 grazie per cui queste quattro divinità di cui oggi vi ho parlato sono quattro divinità fondamentali nel paganesimo noi vedremo quando finiamo il crogiolo dello stregone quando arriviamo a definire tutti gli elementi del crogiolo dello stregone vedremo come questi elementi siano in realtà dei divini che stanno fuori di noi e dei divini che noi sviluppiamo dentro di noi praticando proprio il crogiolo dello stregone vedremo come nella storia come in tutte le regioni in quella greca in quella romana in quella egiziana in alcune altre tradizioni che troveremo insomma per quello che io riuscirò a fare perché chiaramente il lavoro lo sto facendo io con l'aiuto dei pagani dell'istituto politeista però per quello che riusciremo a fare vedremo come in realtà tutta la vita tutto il paganesimo non è altro che questo cioè questo è il paganesimo come religione come sentire e non ha niente a che vedere con l'immagine del paganesimo che ne ha tirato fuori la religione monoteista ora visto che ho concluso il discorso di oggi proverò a ricordarvi qualcosina a proposito della nascita e la morte voglio tornare indietro a una vecchissima trasmissione una trasmissione che è stata fatta vediamo un attimino non ricordo neanche più veramente quanto tempo fa comunque era a gennaio del 97 e in quella trasmissione parlammo del concetto le differenze che c'erano fra il concetto di vita all'interno del concetto di vita e morte fra i cristiani e i pagani e i stragoni perché è importante tutto questo scusate perché comunque le persone sono educate a pensare le cose in un certo modo cioè vengono costruite a non pensare le cose in maniera diversa da come sono state costruite cioè un concetto nuovo far entrare in una persona un concetto nuovo o un concetto diverso dalla quale questa persona è stata educata non è torno a ripetere ancora l'ho già detto ma voglio ancora ripetere il discorso non è una questione di un bel ragionamento ma è un'azione di magia cioè è un'azione di trasformazione della persona perché questo? perché la persona viene educata a guardare il mondo in un certo modo per riuscire a far sì che la persona vede il mondo anche in un altro modo non mi ha detto che deve perdere quel modo di vedere bisogna pigliare lo sguardo della persona e girargli lo sguardo riuscire a girare lo sguardo di una persona è un'opera di stragoneria però affinché quest'opera di stragoneria abbia abbia un risultato occorre due cose essenziali primo che la persona abbia disponibilità a fare questa cosa secondo che l'obiettivo dal quale si vuole distogliere lo sguardo non abbia afferrato e inchiodato l'attenzione della persona stessa cioè riuscire a vedere cose diverse da quelle che si è educati a vedere è un atto di magia è un atto di stragoneria riuscire a pensare il mondo voi pensate una cosa quasi tutti i cristiani anche quelli che sono in ascolto adesso pensano il mondo creato da Dio vabbè magari eliminano il Dio biblico magari eliminano l'uomo con la barba magari accettano anche di eliminare tutta una serie di prerogative accettano di fare tutto però vengono sempre a dire ma allora chi l'ha creato? cioè l'impossibilità di un cristiano di vedere le cose diverse da quelle che qualcuno comunque l'abbia creato è una cosa quasi impossibile necessariamente il cristiano deve mettere una volontà creatrice all'inizio del tempo sempre sempre voi non troverete mai un monoteista che possa vedere le cose in quel modo quello che diciamo noi che non esiste una coscienza creatrice ma che le forze di trasformazione sono all'interno del coso sono all'interno della materia tanto per rispondere alla radio ascoltatrice dell'altra volta materia e energia vitale sono la stessa cosa sono strutturate in maniera diversa hanno fini e percorsi diversi ma è la stessa identica cosa è di una difficoltà veramente enorme è di una difficoltà enorme proprio perché è un atto di magia al tuo pensiero che possa esserci una volontà che crea aggiungi che non esiste nessuna volontà ma che la forza delle trasformazioni sia dentro le cose dentro gli oggetti dentro le persone dentro i viventi che ti circondano e che loro sono delle coscienze di se stessi bene soltanto aggiungere questo al proprio modo di pensare è arte di stregoneria perché significa girare lo sguardo di una persona quando tu vai per strada e pensi a un albero comincia a pensare all'albero come una coscienza che tenta di espandersi come un'intelligenza uguale a te comincia a pensare al filo d'erba come un'intelligenza uguale a te questo non vuol mica dire che non lo levi o non lo butti via però comincia a pensare agli oggetti che ci circondano come delle coscienze uguali a te stessi solo per riuscire a fare un'operazione di questo genere è una delle operazioni di stregoneria più grandi che esistono ebbene tornando al discorso precedente vediamo il discorso fra la vita e la morte dal punto di vista dei cristiani e dal punto di vista dei pagani e degli stregoni allora per i cristiani e qua invito a tutti i cristiani se non è vero di alzare la mano ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 e stiamo trasmettendo da Radio Gamma 5 su 94 FM per i cristiani la vita è un processo di asservimento a Dio in quanto questa è un suo dono mi dicano se questo non è vero per i pagani e gli stregoni la vita è un'occasione da sviluppare per riuscire a diventare eterni e qui c'è una contraddizione che non è sanabile sotto nessun nessun aspetto uno distrugge se stesso l'altro tenta di costruire se stesso anche la distruzione è una costruzione in negativo però non porta a niente vediamo il secondo punto per i cristiani la morte è il momento in cui l'anima va al giudizio divino qualunque tipo di giudizio non è importante per i pagani e gli stregoni la morte del corpo fisico è il momento della nascita del corpo luminoso e qui potremmo dire ah ma allora veramente è la stessa roba perché l'anima non va al giudizio divino mentre invece st'altri partorisce il corpo luminoso non è la stessa cosa l'anima gliel'ha data a Dio l'anima è inalterabile non aumenta quantitativamente né qualitativamente può essere più pura o meno pura e basta mentre invece il corpo luminoso viene aumentato qualitativamente e quantitativamente nel corso di tutta la propria esistenza e le due cose sono assolutamente inconciliabili vediamo il punto 3 per i cristiani la morte è la disperazione e ogni cristiano muore disperato anche quelli che muoiono tranquilli sereni muoiono disperati perché la loro serenità è disperazione per i pagani e gli stregoni la morte del corpo fisico è il coronamento del loro successo l'obiettivo per cui hanno lavorato è come la nascita la nascita comporta un atto di disperazione per il feto il feto va fuori dal proprio ambiente il feto muore nasce l'essere umano per cui la nascita è la distruzione del feto e il feto non sa cosa arriverà però il feto ha lavorato per crescere è arrivato anche a succhiare la propria madre gli ha portato via tutto gli ha portato via vitamine gli ha portato via minerali lo ha lasciato miserabile praticamente si è portato via tutto ha lavorato per costruire se stesso e proprio perché ha lavorato per costruire se stesso proprio succhiando la madre portando via tutte le vitamine il ferro le proteine vedete voi insomma come ha ridotto una persona se non usa degli integratori molto forti ebbene proprio perché ha lavorato per fare questo per costruire se stesso può partorire essere partorito come essere umano muore il feto ma nasce l'essere umano però avrebbe potuto anche non riuscire a mangiarsi la madre avrebbe potuto anche non riuscire a succhiare via tutti i sali minerali a portarsi via tutto potrebbe anche non avercela fatta e allora viene abortito vediamo il punto 4 per i cristiani esiste la nascita e la morte per i pagani e gli stragoni esiste la nascita del feto la nascita del bambino la nascita dell'essere umano adulto e la nascita dell'essere luminoso di derivazione umana vediamo un attimo pronto anche per cortesia no devi telefonare l'altro numero saluti l'altro numero grazie vediamo un attimino ancora dunque per i cristiani esiste la nascita come dono di Dio e la morte in cui si ritorna a Dio mentre invece per i pagani e per i stragoni esiste solo delle nascite nasce il feto nasce il bambino nasce l'essere umano adulto nasce l'essere luminoso di derivazione umana esistono solo nascite la morte non è altra per un pagano è la sconfitta della propria vita cioè io combatto posso anche essere sconfitto posso non farcela però comunque vi assicuro che un pagano ci ha provato vediamo il punto 5 per i cristiani la vita oltre la morte è assicurata pregando e sottomettendosi a Dio e ai suoi delegati in terra per i pagani e gli stregoni la vita permette di incubare il proprio corpo luminoso attraverso lo sviluppo del proprio potere di essere cioè esercitando la propria volontà le proprie determinazioni e sviluppando il sapere e la conoscenza in altre parole crescendo sempre dunque anche qui abbiamo una fortissima contraddizione pronto? buongiorno buonasera a me vorrei sapere dove è scritto dov'è che come ideologia come fatto come fenomenologia ecco il cristiano muoia disperato a parte le singole storie di ogni morente il cristiano è sempre disperato ecco dunque che io penso sia più arduo altra cosa poi a proposito di quattro appunti sia molto più arduo dimostrare l'esistenza di un corpo luminoso che non si sa dove sia stato dimostrato oso dire questo ma sono consapevole che ha fatto i suoi studi e le sue esperienze di apprendista e cercatore di apprendere la stragoneria piuttosto che per esempio l'immortalità dell'anima che già Platone nel fedone io penso che lei in dubbio sia dimostrato che l'anima è immortale ha affermato non dimostrato cioè lei ritiene che nel fedone no un'opera che nel fedone di Platone no Socrate nel fedone di Platone lei pensa che non sia dimostrata l'immortalità dell'anima lasciando fuori le credenze del fideismo e la fede e le credenze lei si è misurato con questa cosa finisca finisca quello che deve dire non si preoccupi prego finisca quello che deve dire intanto ha già fatto un'affermazione per cui ha affermato ma non è dimostrato ma poi questo corpo luminoso questa esistenza di corpo luminoso dov'è che è dimostrata le rispondo per radio bene bene grazie prego allora la dimostrazione è parte della scenografia cristiana è il Gesù dei cristiani che grazie alla sua vuotezza e la sua incapacità deve dimostrare di far risolgere Lazzaro fermati vento cammino sulle acque moltiplico i panni e vi caccio via il demone allora queste sono cazzate la dimostrazione del corpo luminoso ce l'hai soltanto nella misura in cui vai a costruire un percorso di libertà e la puoi trovare soltanto all'interno di te stesso e all'interno di quello che fai e delle azioni che compi e delle scelte che produci nella vita e questa è l'unica dimostrazione che ha una validità assoluta per quanto riguarda le dimostrazioni di fedone sull'anima l'immortalità dell'anima quelle sono tutte seghe perché sono seghe perché partono da presupposti fissi e vanno a finire a dei presupposti fissi cioè sono solo esercizi di retorica perché questo? perché l'anima non è non esiste un'anima il fatto che Platone vada a pensare nei termini di anima è solo una sua scelta assolutamente soggettiva è una sua scelta personale va ad articolarsi con le sue credenze e va alla ricerca dei suoi soluzioni questo fa parte del suo pensiero fa parte del pensiero di Platone ma quel pensiero viene negato dai presupposti e dai finali in realtà noi sappiamo in natura e lo possiamo vedere che l'essere umano nasce e muore per cui tutte le nostre idee tutte le nostre posizioni sugli esseri partendo dal punto di vista logico è dalla nascita alla morte e dunque possiamo soltanto presumere dal punto di vista logico e razionale che con la nascita dell'essere umano con il concepimento dell'essere umano con il primo sperma ci sia la prima carica di energia vitale che attraverso delle trasformazioni cresce sempre per cui dal punto di vista logico noi possiamo soltanto presumere che il campo di energia vitale dal primo attimo venga modificandosi fino alle trasformazioni dopodiché detto questo e questa è l'unica cosa logica e l'unica cosa logica è che l'anima non è immortale cioè non esiste un'anima mortale perché l'unica cosa logica è che c'è la morte del corpo fisico per cui l'unica cosa logica dal punto di vista della ragione è che tutto finisca in quel momento dopodiché esiste invece la consapevolezza delle persone esiste la consapevolezza del sottoscritto come apprendista stregone ed esistono le sue affermazioni che non sono affermazioni logiche nella misura in cui una persona sicura che il dio gli dà il paradiso si autodistrugge e non costruisce se stessa davanti a quella persona cioè davanti all'atto di fede io non sono una persona logica è ovvio questo per cui la mia conoscenza la mia consapevolezza la mia percezione della libertà la mia percezione del corpo luminoso è una percezione che io vado a raccogliere grazie al mio cammino di libertà grazie al mio cammino di costruire me stesso pertanto io sono all'interno di questo assolutamente logico perché in questa radio io non ti dico a te persona tu hai tu hai qualcuno che ti promette questo ma dico tu persona puoi costruire te stessa ed è questa l'unica cosa che possiamo fare chi invece dà l'anima o decide che una persona ha un'anima perché gli è adatta a Dio non fa altro che mettere in ginocchio le persone non fa altro che stuprare le persone davanti a questa concezione per cui questo non è solo assolutamente illogico ma è criminale per cui chi pensa a un'anima immortale che tanto comunque qualunque cosa faccia nella vita io ho l'anima immortale non è che semplicemente è illogico ma è vigliacco vigliacco davanti alle logiche della ragione prima fra tutto dopodiché davanti alla stragoneria le cose sono diverse perché i percorsi di libertà i percorsi di percezione ti portano a pensare a vedere a vivere a percepire il mondo al di fuori della ragione al di fuori della descrizione il problema è che quello che tu percepisci quello che tu vivi lo puoi riportare nella ragione con estrema fatica perché la descrizione della ragione è sempre monca è sempre incapace è sempre impossibilitata a descrivere ciò che la percezione porta da fuori per cui io uso il termine corpo luminoso come elemento che la vita costruisce proprio perché l'individuo deve costruirsi io ho la certezza di questo perché io sono arrivato là esattamente come la certezza che all'inizio dell'universo non c'è nessuna coscienza creatrice proprio perché io sono arrivato là dopodiché siccome non posso dimostrare questo perché altrimenti mi chiamo amato il semplice fatto che le dimostrazioni sono sempre dimostrazioni razionali meno che quella del pazzo di Nazare che dice ah siccome ci vogliono due testimoni ma siccome io sono figlio del padre che il padre allora testimonia per me allora io sono testimoni cioè a parte questi giochetti aberranti di logica quando si parla di logica quando si parla di ragione quando si comunicano dei concetti si comunicano quei concetti e le proprie sensazioni e le proprie cose e le proprie percezioni però essenzialmente si parla di logica perché noi abbiamo un modo per sperimentare se una cosa è vera o non è vera ed è la vita la vita di tutti i giorni la vita delle persone e specialmente la vita delle persone più deboli quando da 2000 anni la chiesa cattolica ha stuprato le persone ha dimostrato come il suo concetto è fatto tra miliardi di morti solo per metterle in ginocchio il suo concetto di anima immortale è solo una porcheria io lo lascio a Platone e al suo fedone bene concluso questo andiamo avanti andiamo avanti col sesto punto col sesto punto il sesto punto è per i cristiani comunque l'anima continua dopo la morte e qui ci rimettiamo la telefonata di prima per i pagani e gli stregoni chi ha vissuto mettendosi in ginocchio non conserva energia vitale sufficiente per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e la disperazione dei cristiani davanti alla morte che è sempre disperazione o la loro rassegnazione che è un altro aspetto della disperazione è l'esteriorizzazione del fallimento della loro vita e la disperazione non è semplicemente l'atto oh come sono disperato io che non posso più fare a meno oh che disperato che scepo no la disperazione è anche quella dell'incapacità di costruire l'incapacità di continuare a vedere un altro futuro e vediamo il punto 7 il settimo punto dice per i cristiani dopo la morte il loro dio decide fra inferno e paradiso oppure quello che volete voi per me è indifferente se non vado male devo aver letto qualcosa non so se dal Simeo dal Timeo sull'inferno e il paradiso sempre di Platone da quale i cristiani hanno preso a piene mani ma comunque non ha importanza per i pagani e gli stregoni se l'essere umano al momento della morte del corpo fisico ha accumulato sufficiente forza per trasferire la propria coscienza di sé al corpo luminoso ha quattro possibilità determinate da quanto ha arricchito la propria coscienza di sé nel corso della sua esistenza per continuare la sequenza di mutamenti e diventare eterno sedimentarsi con l'essere terra sedimentarsi con l'essere sole sedimentarsi con l'essere natura oppure conquistarsi una libertà che gli permette di continuare la sequenza di mutamenti senza sedimentarsi con un altro essere più grande in pratica la vita costruisce la consapevolezza di sé stessi costruisce la costruzione del proprio corpo luminoso e uso il termine corpo luminoso proprio per usare un termine generico che indichi che indichi la vita dell'essere umano come una specie di impastatura come se l'essere umano prendesse la propria energia vitale da ogni parte delle sue cellule e la mettesse insieme e l'amalgamasse nel corso della propria vita usando la propria volontà le proprie determinazioni il proprio fare bene se questa amalgama se questa costruzione che fa l'essere umano attraverso la propria vita ha accumulato forza sufficiente può conquistare la libertà cioè non è detto che si debba sedimentare con altre coscienze poi a mano a mano che la forza è minore però ha comunque costruito il proprio corpo luminoso ci sono delle sedimentazioni con esseri più grandi di lui la natura l'essere terra e il sole bene questi esseri rappresentano la formazione delle entità in questa parte dello spazio della coscienza universale quella che sarà alla fine dei mutamenti la coscienza universale benissimo io qui ho finito la trasmissione di questa sera trasmissione di magia stregonaria paganesimo vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni piazzale parmesan 8 Marghera su elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni via delle Vignole 4 Marghera ho appena cambiato casa e vi do anche vi do anche l'indirizzo dell'istituto mediterraneo di studi politeistiche casella postale 53 Marostica Vicenza il telefono dell'istituto è una segreteria telefonica 0338 3910 727 ripeto 0338 3910 727 vi ricordo ancora che il giorno 26 giugno alle ore 20 e 30 in sala Radio Gama 5 in via Belzone 9 Cadoneghe Padova laterale sinistra della strada del Santo che da Castelfranco porta a Padova subito dopo la pizzeria antico guerriero terremo una conferenza di battito dal titolo trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stragoneria saremo sia io che Francesco e qualche altro pagano che verrà a assistere chiaramente e esporremo i nostri principi e i nostri e il nostro sentire e il nostro modo di percepire il mondo chiaramente lo lo descriveremo dal punto di vista del paganesimo politeista e della stragoneria chiaramente quella è una sfida cioè nel senso che noi prendiamo le nostre cose e le mettiamo in piazza per cui io chiederei se qualcuno vuole magari di vedere le sue cose e chiaramente ci sarà scontro ricordatevi che la contraddizione è vita e la contraddizione non è mai un gioco tranquillo è sempre un atto forte un atto vissuto in modo molto forte molto violento non esiste una contraddizione che non sia forte e che non sia violenta naturalmente non mi ha detto che si debba spaccare la faccia però insomma si può difendere i propri principi e vedere di trasformarli lentamente bene io chiudo qui la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo dandovi appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 giovedì prossimo alle ore 15 parleremo della preghiera nel crogiolo del male e dopo continueremo con delle altre immagini del sentiero d'oro vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento per giovedì prossimo arrivederci e grazie a tutti ricordo questa radiogamma che trasmette su 94FM la migliore radio del veleto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti